Atti vandalici che si ripetono periodicamente causando pesanti ripercussioni sulla viabilità ferroviaria. Questo l'allarme lanciato da Trenord dopo che nella giornata di lunedì 15 febbraio ben tre corse sono state cancellate a causa dei vandalismi commessi a bordo delle carrozze mentre una quarta ha subito ritardi e altri disagi. Comune denominatore la città di Bergamo, i treni vittima degli episodi infatti partivano o giungevano proprio nel capoluogo robico. La prima corsa ad essere soppresse è stata proprio quella fra Bergamo e Brescia delle 13.42. La rottura da parte di ignoti dei finestrini ha costretto il personale ad annullare il viaggio della 10.101 sorte migliore invece per il Bergamo-Brescia delle 17.06 il 10.37 dove la medesima problematica ha portato la chiusura di una carrozza. Sulla linea Milano-Bergamo via Carnate sono state inoltre sostituite con bus in seguito ad atto vandalico le corse 25.879 e i 25.886 cui convogli sono stati condotti in deposito per l'opportuna manutenzione. L'assessore regionale alla sicurezza e immigrazione e polizia locale Riccardo Decorato ha stigmatizzato quanto accaduto aggiungendo che attualmente è in fase di definizione un accordo tra Regione Lombardia e le prefetture di Lecco e di Milano. Con l'obiettivo di aumentare la sicurezza sui treni saranno incrementati i servizi della polfera e della polizia locale a bordo e sulle banchine della linea ferroviaria. Al coro unanime di condanna si sono aggiunte anche le parole dell'assessore infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi. Gesti incivili come questi si commentano da soli ed esolante constatare come certi comportamenti inaccettabili siano ancora così frequenti. Basti pensare agli ingenti costi sostenuti per riparare i danni causati dai vandali. Si tratta di azioni senza senso che procurano disagio alla collettività e ai cittadini che usufruiscono del servizio. Nel 2019 Trenord ha registrato oltre 9.500 atti vandalici tra graffiti, sedili divelti e distrutti, martelletti frangivetro rubati, tendine parasole asportate e strappate. Mano al portafoglio, solo per la rimozione dei graffiti nel 2019 il costo è stato pari a 1,5 milioni di euro.